Due impegni casalinghi e due trasferte su terreni molto insidiosi e il programma delle Pugliesi nel quinto turno del girone C di Serie C che prevede il riposo forzato per il Bari di Gaetano Auteri. Il Trapani, avversario designato dei Biancorossi, è stato infatti escluso dal campionato dopo non essersi presentato in campo nelle prime due giornate. Antenucci e Soci, primi alla vigilia del weekend, assisteranno in poltrona agli impegni delle restanti 18 formazioni del raggruppamento. Campo centrale è quello di Bisceglie dove domenica alle 15 arriva il Palermo, reduce da un avvio di stagione con due sconfitte e un pareggio. I Rosa Nero cercano il riscatto contro la formazione allenata da Giovanni Bucaro che nel recupero del mercoledì è passata allo Zaccheria nel derby contro il Foggia e giocherà la terza gara in sette giorni. Obiettivo di cittadino e compagni è trovare la prima vittoria al Ventura. Intanto dal mercato degli svincolati è arrivato un rinforzo per la difesa, ufficiale l'arrivo del centrale Enrico Altobello. Fischio d'inizio alle 15, lo stesso orario in cui al Giovanni Paolo II sarà replicato l'incrocio Puglia-Sicilia. La Virtus Francavilla va a caccia del primo successo di stagione contro un Catania che al netto dei quattro punti di penalità sarebbe nelle zone alte della graduatoria grazie a due vittorie e un pareggio nei primi tre impegni ufficiali. Certo il rientro tra i titolari di Celli nel gruppo di Trocini, Perez non è al meglio ma stringerà i denti. Doppia trasferta per Foggia e Monopoli. Alle 17.30 i rossoneri di Marchionni concluderanno il trittico di sfide in sette giorni sul campo del Catanzaro. Certa l'assenza di Gavazzi squalificato dopo il Rosso contro il Biceglie, mentre in gruppo ci sarà l'ultimo arrivato Rocca. Alla stessa ora a Torre del Greco sarà di scena il Monopoli. I biancoverdi di scienza dopo i due K.O. interni contro Catani e Teramo cercano il riscatto in trasferta dove sin qui è arrivata l'unica gioia stagionale all'esordio nel torneo contro la Juestavia. Altro incrocio campano, questa volta contro una Turris a punteggio pieno nelle tre partite sin qui giocate. L'allenatore biancoverde recupera Arlotti e Nicoletti, ancora Out, Giosa, Tazzere e Bastrini. A disposizione anche gli ultimi acquisti Lombardo e Rimoli.